Ieri sera in mezzo alla gente io camminavo, guardavo soprattutto la gente del posto che era seduta davanti alla porta di casa e si godeva il passaggio di gente come noi, gente che è venuta per un progetto, gente che è venuta per fare rete ma soprattutto per fare comunità. La comunità è importante, la comunità è forte, la comunità è vincente, la comunità è convincente, la comunità è forza delle persone, è l'insieme di tante persone che si ascoltano. Questo luogo è il posto giusto per fare comunità. Quando suono chiaramente non cerco l'applauso ma cerco una comunicazione particolare, quindi voglio sempre essere autogratificato. Per autogratificare il mio pensiero è quello di ricordarmi i pensieri belli buoni, riempirli di pensieri belli. Cervello pieno di cose belle che ho passato, di persone che ho incontrato, di momenti straordinari. Cerco di dare il pugno nello stomaco. Io credo che ascoltare, vedere cosa mi sta attorno è importantissimo. Quando io scrivo musica non sono né ispirato, non penso di fare musica ma raccolgo. Quando viaggio per esempio, io abito a Milano, in metropolitana, vedo l'espressione delle persone. Sono tutti tristi perché pensano al lavoro, sono tutti vestiti di nero. Io per provocare ho acquistato dieci anni fa un Montgomery Bianco e mi sono messo in testa di portare luce, di portare sorriso e speranza nella vita. Io rimuovo tutti i ricordi cattivi e negativi. Di solito si dice sulla cosa negativa impari a vivere, a esperienza. No, io li rimuovo e voglio costruire tutto sulle cose positive. Quindi l'insieme di tanti ricordi, ma sono tantissime, di tante esperienze, sono quelle che mi hanno dato il calcio nel sedere. Dieci anni fa io pensavo come sarò a 80 anni se ancora ci sarò. Avevo un'immagine di tanti miei coetanei su una panchina al parco che leggevano l'unità. E quindi avrei voluto invece, ho desiderato non finire sulla panchina a leggere un giornale, ma mettere in moto sempre tenere allenato il mio cervello che è un muscolo che va tenuto annelato come quelli che giocano a calcio, come quelli che fanno i cento metri. Quindi facendo cose, facendo cose che immagini di fare, di realizzare e cercare di realizzarle. Faccio il comunicatore e utilizzo la musica per comunicare tutte le cose che ho dentro, anche il mal di pancia, perché quando ho mal di pancia comunico coi pugni sul pianoforte. E la gente è i critici di accidenti, anche lui come John Cage. Quando veramente non ho voglia di suonare la tastiera entro nell'arpa del pianoforte e la pizzico in un modo casuale, perché io so che la scuola di Cage, Cage preparava il pianoforte, metteva tutte le cose colorate, sapeva dove andare. Io vado casualmente, perché io credo che la casualità sia la realtà nostra. Perché io sono qui per caso, sono qui per caso, ma perché? Per caso sono, perché c'è un fil rouge che mi porta a pensare, a tenere il cervello in allenamento per non finire sulla panchina. I musicisti cosiddetti amatori, con la A maiuscola, i cosiddetti dilettanti con la D maiuscola, si soddisfano perché riescono a imitare gli altri e si sentono. E dico, io faccio la musica che fa quello là, ma si sentono come i maestri. Invece il mio consiglio è difficile dare consigli. È comunque ascoltare, ascoltare, studiare, studiare, copiare, copiare e capire perché questi hanno trovato la loro strada. Quindi, devi copiare, devi dimenticare tutto, trovare il tuo sentiero, altrimenti fai pure il farmacista. E qui bisogna avere il portatore di regole, che è poi il docente, che sia onesto con chi ha di fronte. E quindi è chiaro che le scuole private, che vivono anche sull'ignoranza che porta i quattrini, non lo diranno mai, guarda, fai il farmacista, fai il ciclista. Quindi, anche perché così, se sei chiaro con l'allievo, con chi studia musica, che è una cosa straordinaria, ma in chi pratica, chi fa arte, è importante che abbia l'insegnante, il maestro, il portatore di regole, che sia onesto con se stesso e onesto anche con l'allievo. Quando i ragazzi dicono, ah che bella scuola, io li correggo, dicono, no, stiamo facendo di tutto per creare una comunità, quello che si sta facendo qui a Colle Scipoli. Una comunità seguendo e ascoltando, non imponendo il tuo pensiero, perché no, ma ascoltando quello che loro vorrebbero fare, discutere con loro e eliminare insieme le cose che non funzionano per crescere. Il jazz era considerato dal pubblico folclore americano, come folclore? Questa è una lingua che è nata, è una cosa straordinaria. È nata proprio da esperienze, da culture diverse che si sono incastrate. I cubani che hanno incontrato gli ebrei, gli ebrei che hanno incontrato gli italiani, gli italiani che hanno incontrato gli africani. E quindi è nato questo linguaggio che è l'insieme di tante culture. L'insieme di tante culture perché il nostro linguaggio vive sul contemporaneo, quindi sarà sempre vivo perché è onnivoro. Quindi il jazz non morirà mai e tutti coloro che dicono che è difficile sono pigri, pigri mentalmente, pigri come persone. È l'emozione che dentro di me quando andrò lunedì a prendere il treno, quando sarò sul treno, e poi martedì quando rientrerò a scuola e poi mercoledì quando andrò in metropolitana. È chiaro che ho ricevuto un'emozione straordinaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.